Ebbene, non si può completare una lezione sull'imperialismo e il colonialismo senza accennare all'imperialismo di altre potenze che non siano, ovviamente, quelle europee. Quindi, degli Stati Uniti d'America ne parleremo in un'altra lezione, perché anche gli Stati Uniti furono, come si può dire, protagonisti di un'espansione, di un imperialismo, diciamo così, sempre più verso ovest fino ad arrivare all'Oceano Pacifico. Tuttavia, la loro storia è talmente particolare che merita tutto un capitolo a parte. Parlerò, invece, dell'espansione della Russia, della Russia zarista, eccola qua, che porterà la Russia ad essere il più grande stato del mondo. Occorre, appunto, un planisfero per raccontare dell'espansione russa. Lo zar, insomma, gli zar, nel corso dell'Ottocento, decisero di espandere i confini del loro impero, ovviamente, verso sud e verso est. Fondamentalmente perché, verso ovest, ormai la situazione era bloccata a causa della, come si può dire, a causa della situazione europea. Cioè, non si poteva, in un certo modo, affrontare una guerra contro, che so, la Germania o contro l'Austria e Ungheria. Quindi, gioco per forza, in un certo modo, se si voleva espandere, si doveva andare in altre direzioni. Certo, c'è stata anche la guerra contro la Turchia, lo sappiamo. La guerra che ha portato, il conflitto che ha portato la guerra per la Crimea nel 1853, sì? 53-54, dovrebbe essere. Tuttavia, l'espansione più significativa, appunto, essendo bloccati verso ovest, era verso sud e verso est. Ecco, quindi, che nel corso dell'Ottocento, la Russia si espande verso l'Asia centrale, conquistando i famosi Stan, ok? Tuktak, Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakistan, Tajikistan e Kirghizistan. L'Asia centrale, che poi diventerà parte dell'Unione Sovietica, vi ricorderò. E poi, verso est, a questo punto, verso sud-est, per andare a rompere le scatole alla Cina. E, infatti, arriverà a conquistare questi territori, la Mongolia, fondamentalmente. E la Manciuria, per la quale entrerà in conflitto con il Giappone. Manciuria e Corea erano, diciamo, gli obiettivi finali di questa espansione. Invece, in, diciamo, in piena direzione est, l'impero russo si espanse su tutta la Siberia, la Kamciakta, valicò lo stretto di Bering e arrivò a pigliarsi anche l'Alaska, che oggi è uno dei 50 stati degli Stati Uniti d'America. Scesero addirittura lungo le coste del Pacifico, fino a fondare alcuni fortini, pensate, persino in California. Quindi, proprio dall'altra parte del mondo. Tuttavia, ovviamente, era un'espansione eccessiva, insostenibile. Quindi, lasciarono perdere la California e poi vendettero l'Alaska agli Stati Uniti d'America. Per un milione di dollari? Non mi ricordo. So che anche la Louisiana è stata venduta agli Stati Uniti. Ecco, però sicuramente ha un prezzo decisamente inferiore al valore dell'Alaska, dove sappiamo c'è petrolio, oro, legname, di tutti i minerali possibili, immaginabili, di tutto di più. Dunque, quindi, l'espansione verso est e verso sud est. Che cosa facilitò questa espansione? Già lo sapete, perché l'abbiamo fatto in geografia. Questa espansione fu favorita dalla ferrovia trans-siberiana, che permise il collegamento con il porto di Vladivostok, lontano oriente. La Russia, ovviamente, in questo modo, si intromette in vicende che hanno a che fare con l'Estremo Oriente, con l'Asia, propriamente detto. Parlando di Asia, ci fermiamo un secondo lasciando perdere la Russia per il momento e affrontiamo invece il problema cinese. Allora, petta, che non mi sia aperto. Ecco qua. Bene, la Cina. Che problema aveva la Cina? Fondamentalmente un sacco di drogati. Non è che dovete immaginare tutti i cinesi drogati, per carità di Dio. Però, incominciava a diffondersi una piaga piuttosto pericolosa per la salute pubblica e per l'economia cinese, che era, in pratica, il consumo di oppio. In pratica, i cinesi incominciarono a ritrovarsi in queste fumerie di oppio, dove avevano la possibilità di fumare, sdraiati, di andare fuori di testa, tranquilli tranquilli, e di drogarsi, fondamentalmente. Bene, voi dite, vabbè, a parte il discorso salute, che c'entra l'economia? Eh, c'entra sì, perché, in pratica, per comprare questo oppio, i cinesi pagavano in monete di argento. Cioè, monete preziose, in metallo prezioso. Quindi, togliere di circolazione l'argento dalla Cina per mandarlo all'estero in cambio dell'oppio è chiaramente un impoverimento di una nazione, ok? Perché oro e argento sono metalli preziosi e, se rimangono in circolo nel proprio paese, ovviamente, garantiscono un determinato benessere e un certo livello di ricchezza. Se invece vengono spesi all'estero per qualcosa che, tra l'altro, finisce in fumo, cioè, non lascia traccia, beh, a questo punto davvero è uno spreco. Nel senso che se io brucio, brucio, se io utilizzo oro e argento per costruire ferrovie, piantare industrie, aprire scuole, cose del genere, ma anche comprare armi, se vogliamo, ok? O cibo, ecco, questo ha un senso. Può avere un senso. Ma comprare fumo, comprare droga, ecco, questo è veramente una spesa folle. Ma chi, diciamo, vendeva questo oppio ai cinesi? Ok? Beh, oggi saremmo sorpresi, ma era proprio così, il Regno Unito. Il Regno Unito faceva coltivare il papavero da oppio in India e in Pakistan. In Pakistan, allora, era parte dell'India e vi faccio notare che ancora oggi il Pakistan è un grande produttore di droga, come anche l'Afghanistan, l'avevamo visto in geografia. Dicevo, questa zona, appunto, produceva un sacco di oppio e gli inglesi, compagnie private, per carità, però, sempre inglesi sono, si dilettavano a vendere questo oppio ai cinesi. A un certo punto, l'impero cinese, perché la Cina era un impero all'epoca, ok, come si può dire, proibì l'importazione di oppio, perché, appunto, era un danno sia per l'intelligenza dei propri cittadini, perché la droga instupidisce, sia per evitare un tale drenaggio di moneta preziosa. Risultato, ci fu la guerra dell'oppio, anzi, le guerre dell'oppio, nel corso della fine, diciamo, seconda metà dell'Ottocento, per cui gli inglesi, a un certo punto, imposero alla Cina l'obbligo, diciamo così, di comprare l'oppio, il loro oppio. Gli inglesi, insomma, vinsero la guerra contro la Cina, che, tra l'altro, dovette cedere delle basi commerciali agli inglesi, ma anche ad altre nazioni europee, compresa l'Italia, a Tian Xin, avevamo una concessione, ok? E, dicevo, comunque, a seguito di queste guerre, oltre a dover pigliarsi, diciamo, la vendita di oppio, e oltre a dover essere costretta a stringere accordi commerciali con le potenze straniere, con l'Inghilterra, dicevo, dovette cedere un territorio ricco di, diciamo, una serie di isole, isolette, eccetera, eccetera, quel territorio diventerà Hong Kong, la Baia di Hong Kong, ok? Territorio inglese fino al 1997. In realtà, se non sbaglio, era in affitto, ok? Fu lasciata, fu restituita alla Cina comunista con il patto, insomma, che Hong Kong avrebbe goduto di un regime particolare. La Cina, nel 97, 1997, disse, sì, sì, certo, non c'è problema, invece sappiamo che Hong Kong, piano piano, ormai ha perso ogni forma di libertà e di, come dire, autonomia, sempre più diretta dal partito comunista cinese, come era prevedibile. Comunque, tornando al nostro periodo storico, Hong Kong diventa, appunto, una base inglese. La presenza degli inglesi a Hong Kong, dei tedeschi, degli italiani, anche dei giapponesi, ma pure americani, francesi, insomma, divenne sempre più intollerabile per la Cina, che viveva, in pratica, a parte qualcuno che ovviamente era a favore, faceva affari, eccetera, eccetera, comunque viveva un po' come un affronto questa presenza di occidentali in Cina. temevano, insomma, che il loro paese, questi cinesi, soprattutto contadini, per esempio, ma non solo, anche nobili, anche i nobili, temevano, insomma, che il loro paese sarebbe diventato, non dico una colonia europea, perché era praticamente impossibile colonizzare un paese di antica civiltà come la Cina, cioè un conto era conquistare territori in mano a popolazioni semiselvagge o addirittura selvagge, come nel cuore dell'Africa, un altro conto è sottomettere un'antichissima civiltà come quella cinese. Anche se gli europei consideravano la Cina o l'India inferiori, perché erano inferiori tecnologicamente, quindi avevano comunque una sorta di razzismo nei confronti di India e Cina, indiani e cinesi, beh, era comunque, come dire, innegabile che la Cina fosse di antichissima, un paese di antichissima civiltà, insomma, non si poteva pensare di papparselo così, ex abrupto, to cur, cioè papparselo e punto, e basta. Quindi, diciamo che gli europei, gli occidentali, contarono su una penetrazione di tipo economico, ok, e culturale. Questo, ai cinesi conservatori, non andava per niente giù. E quindi, che cosa successe? Che nel 1900, vedete che carini, hanno scelto proprio anche loro una data ben precisa, in modo tale da non crearvi dubbi, ok, proprio nel 1900, ci fu la rivolta dei boxer. La rivolta dei boxer. Cioè, dei cani? Boxer i cani? La rivolta dei boxer, nel senso delle mutande? Ok? No, non è la rivolta delle mutande. In realtà, si chiama rivolta dei boxer, perché, i cinesi, che portarono avanti questa rivolta, indossavano dei calzoncini corti, tipici dei boxer, cioè dei pugilatori, dei pugili, ok, e quindi venivano chiamati boxer, perché ricordavano, appunto, i calzoncini indossati dai pugili. Anche i boxer di oggi, eh, sono fatti come i calzoncini dei pugili. In ogni caso, gli occidentali chiamarono, così, questi boxer, questi rivoltosi. Rivoltosi, che, appunto, con l'appoggio dell'imperatrice, perché c'era un'imperatrice in quel momento, crearono una rivolta, cioè, fecero una rivolta, una rivolta che ha dell'epico, praticamente, che cosa successe? Che, a Pechino, ecco qua, l'ultima, l'imperatrice che finanziò, in un certo modo, incoraggiò questi boxer. Allora, a Pechino, questi cinesi, assediarono il quartiere delle legazioni, il quartiere delle ambasciate. È un quartiere abitato, fondamentalmente, da occidentali, ma anche da, loro servitori cinesi, da cinesi cristianizzati, insomma, cristianizzati, tra l'altro, che venivano visti, erano visti come delle spie dell'Occidente, erano visti come dei traditori. Allora, questi boxer assediarono il quartiere delle legazioni e qui abbiamo la prima manifestazione di una forma di unità europea. Perché? Perché per sopravvivere le varie legazioni si accordarono tra di loro, i soldati che c'erano a difendere queste legazioni si misero tutti a, diciamo, a collaborare e mi suonano al telefono un attimo solo, sperando che non ci siano problemi. Ok. Niente di grave, nessuna telefonata urgente. Eravamo rimasti... Blah, 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 blah. Ah, sì. Le truppe, diciamo, che pochi soldati che erano a difesa delle varie legazioni si misero a cooperare per difendere la pelle, diciamo, degli occidentali, dei civili occidentali, degli ambasciatori, insomma, del personale delle ambasciate e dei cristiani, circa 5.000 cinesi cristiani che trovarono rifugio nella cattedrale di Pechino che era lì appunto vicino al quartiere europeo. Perché ha dell'epica questa vicenda? Perché appunto pochissimi soldati europei dovettero tenere fronte, far fronte, a migliaia e migliaia di boxer che però assaltavano questo quartiere delle legazioni ovviamente con armi primitive, pochissimi di loro avevano armi da fuoco, diciamo che assaltavano appunto con lance, con scudi, con spade, forconi, quello che capitava e ogni tanto anche qualche arma da fuoco. Gli occidentali ovviamente invece avevano, come vedete nel disegno, avevano dei fucili, eccetera. In queste battaglie, in questa battaglia, in questa difesa, insomma, si distinse anche il contingente italiano che diede ottima prova di sé. combatterono, insomma, valorosamente anche perché, insomma, rischiavano la pelle, ebbero problemi di cibo, ma pensate un po', l'imperatrice giocava, faceva il doppio gioco, cioè, utilizzava i boxer, mandava i boxer a massacrare o cercare di massacrare gli europei, però, per non entrare in conflitto con gli europei in maniera ufficiale, cioè non fare una vera e propria guerra, ok, fingeva di, che questi boxer le fossero sfuggiti di mano, che fossero, insomma, dei rivoltosi, che lei non poteva controllarli, e, insomma, per testimoniare la buona fede, inviò del cibo agli assediati, agli europei assediati, ovviamente giusto per salvare la faccia, mettiamola così, poi in realtà incitava i boxer, tramite i suoi uomini, incitava i boxer a proseguire questo assedio, e, dicevo, assedio durissimo, ovviamente, durò qualche mese, e, diciamo però che i cinesi non riuscirono a avere la meglio anche perché erano piuttosto disorganizzati, perché erano dei rivelli, non era un vero e proprio esercito, anche se soldati dell'impero cinese parteciparono, zitti zitti, buoni buoni, però, ecco, erano più che altro una massa disorganizzata, la cosa, diciamo, l'aneddoto curioso è la storia dei cannoni, allora, gli europei non avevano artiglieria, però riuscirono a rimettere in sesto un vecchissimo cannone in bronzo, mi sembra, cioè proprio una roba antiquata, lo misero insieme con delle corde, lo legarono a un affusto, insomma, come si può dire, a un sostegno, e iniziarono a utilizzarlo fino a che non gli esplose in faccia, praticamente, perché ovviamente non era un'arma chissà come, ecco, invece, i cinesi avevano dei cannoni, però, appunto, mi ricordo di aver letto da qualche parte, per cui, attenzione, non riesco a ritrovare la fonte in queste situazioni, in pratica erano così imbranati che le cannonate che tiravano, sorvolavano il quartiere delle legazioni, quindi questi europei si vedevano i proiettili, passavano da un punto all'altro, andavano sopra la testa, e colpivano i cinesi dall'altra parte, quindi, i cinesi dall'altra parte ci stanno bombando i cannoni, aspetta, aspetta, rispondevano e colpivano gli altri cinesi dall'altra parte, ovviamente è stato un incidente, un aneddoto, ecco, niente di chissà che, in ogni caso, che cosa successe? che questo quartiere mantenne duro per alcuni mesi, fino a che le potenze occidentali inviarono navi da guerra da tutto il mondo, dagli Stati Uniti, dal Giappone, dall'Europa, avevano queste navi da guerra che con i loro equipaggi risalirono i grandi fiumi cinesi, insomma, i fiumi cinesi, e a un certo punto sbarcarono delle truppe che raggiunsero Pechino e salvarono la situazione. L'imperatrice, per non fare la brutta figura di, come si può dire, aver cercato di massacrare questi europei, fece buon viso a cattivo gioco e per salvarsi l'onore e la faccia fece imprigionare, mandò l'esercito a imprigionare i boxer e li fece decapitare. Ecco, si liberò, diciamo così, dei suoi scomodi alleati che aveva cercato di sfruttare senza aver successo, ovviamente. E quindi, qui finisce anche la rivolta dei boxer il tentativo, diciamo così, della Cina di togliersi di mezzo l'influenza degli europei, cosa che comunque non gli riuscì, non le riuscì, perché ovviamente la situazione andò avanti, gli europei ormai si erano stabiliti in Cina con le loro, non dico colonie, ma i loro punti commerciali, i loro impori, diciamo così. Allora, prossimo argomento è il Giappone, la situazione in Giappone, però prima di chiudere mi stavo dimenticando un'altra cartina che dovete studiare a memoria. Vi ho fatto studiare a memoria la cartina dell'Africa coloniale, vi dovete studiare a memoria anche la cartina dell'Asia coloniale, che è più semplice e vi ricordo che vedremo in geografia comunque. Allora, è abbastanza semplice, qui in questa cartina non c'è, ma ve lo dovete ricordare, la costa dell'Arabia in mano agli inglesi, così come in pratica tutta l'India, tutta la zona dell'India, ok? L'attuale Birmania o Myanmar, l'attuale Pakistan, l'India. L'Iran era diviso in sfere di influenza, un po' come la Cina, se la sono un po' divisa le grandi potenze, questi territori divisi come influenza, anche l'isola di Sri Lanka. Il Regno Unito possedeva anche la Malesia, l'attuale Malesia, e soprattutto Singapore. Singapore è un po' come Gibilterra, è la Gibilterra d'Oriente, cioè una città-stato, un territorio estremamente importante in una posizione strategica per il controllo delle rotte commerciali. Ancora oggi, ok, le rotte commerciali che vanno dall'Europa, dal Medio Oriente verso la Cina e il Giappone, e viceversa, passano attraverso, vedete, questo stretto praticamente, ok, l'Indonesia, Malesia, Indonesia e Singapore. Gli olandesi possedevano l'Indonesia, e l'abbiamo già visto l'anno scorso parlando in seconda media dei Paesi Bassi, eccole qui, l'Indonesia. Il Portogallo possedeva Timor-Est, di cui, c'è una piccolezza, non vi preoccupate, però è carina questa situazione, ve la racconterò. Gli Stati Uniti, prima la Spagna, ma poi gli Stati Uniti, possedevano le Filippine, che vi ricordo, prendono il nome da re Filippo di Spagna, ecco, le Filippine furono un obiettivo della guerra ispano-americana, di cui abbiamo già parlato in occasione della rivolta del pane soppressa da Bava Beccaris. Vi ricordate quello che ha sparato sulla folla e si è beccato la medaglia da Umberto I, che appunto per questo fu, diciamo, sparato, gli fu sparato dall'anarchico Gaetano Bresci per vendicare i morti di Milano. Allora, guerra ispano-americana, appunto, gli americani si piglieranno le Filippine, che non verranno proclamate colonia, perché, come vi ho detto, gli americani non possono avere colonie e non potevano avere colonie, ma semplicemente protettorato, amministrazione fiduciaria, insomma, si inventavano una storia così. E infine la Francia, la Francia che possedeva l'Indocina francese, oggi sarebbero Cambogia, Laos e Vietnam. Il Siam, detta anche Thailandia, rimase libero, così come la Cina in teoria, se non sottomessa tramite le sfere di influenza. Un caso a parte è il Giappone, il Giappone che invece, appunto, si espande in Oriente, nel vicino Oriente per lui, ok, Manciuria e costa della Cina, ma questo è appunto un altro argomento. Bene, allora, io direi di chiudere qui, e vi rimando al Giappone nella prossima lezione. Grazie. Grazie. Grazie.